Oh finalmente prima vittoria stagionale 4 a 0 contro il Venezia Prima vittoria stagionale, meno male, meno male, sarà la prima e l'ultima Però godiamoci questa vittoria perché tanto non capiterà mai più Ma intanto godiamoci questa vittoria e ci sono anche degli aspetti positivi in questa partita Perché abbiamo visto un ottimo primo tempo da parte della squadra Abbiamo chiesto ai nostri ragazzi una reazione e questa reazione c'è stata È vero, abbiamo giocato contro il Venezia, una squadra che non può circolare in Serie A Praticamente sta facendo danni della granide in ogni partita che gioca Ha paritato con la Fiorentina, ma la Fiorentina è messa male quanto noi Però almeno noi abbiamo vinto 4 a 0, siamo entrati subito in campo Dopo un minuto siamo passati in vantaggio contro Teo Hernandez Risposta da Teo, l'abbiamo avuta, risposta anche da Leao che aveva già segnato con la Lazio Ma anche oggi fa l'assist con questo rigore Stava per segnare il 5 a 0 Però c'è stata una reazione di tutta la squadra E meno male Se non vincevamo neanche oggi ragazzi c'era un problema serio In questo momento il problema non c'è Godiamoci questa vittoria L'avversario è quello che è Però abbiamo visto cose positive Pulisic molto bene e continua a confermarsi un grandissimo acquisto che abbiamo fatto l'anno scorso Quest'anno già due gol e due assist Capitan American Christian Pulisic E lo dico, è il miglior esterno destro della Serie A Nessuno lo può battere Pulisic è un top player fuori classe Ha dominato su ogni pallone Riceveva i palloni Si abbassava Faceva le aperture Inventava calcio Pulisic è il calcio Quando vedi Pulisic giocare ti inamori dal calcio Contento per Pulisic E un'altra cosa che mi è piaciuta è Renders Renders sulla tre quarti Dietro alla punta Svariava Forse Abbiamo trovato la posizione di Renders Speriamo Speriamo che l'abbia capito Il signor Paolo Fonseca È arrivata comunque la sua prima vittoria Dall'allenatore del Milan Renders L'ha utilizzato molto bene Ha svariato Si è inserito Cercava i suoi compagni Abbiamo visto forse il Renders L'abbiamo visto in nazionale E speriamo che continui così E che Fonseca lo fa giocare lì Molto bene anche l'ofto chic Sulla mediana Voi mi direte Vabbè Harry ma avete giocato col Venezia Però se queste prove Non funzionano neanche col Venezia Ragazzi Ci poteva esserci un problema Col Venezia ha funzionato Abbiamo fatto anche il 4-4-2 Inserendo Morata Provando Morata e Evra Ma insieme Dopo il 4-0 Ci siamo un po' divertiti Ci siamo un po' divertiti Oh comunque I piolisti Erano già pronti eh Erano già pronti Le vedove di pioli eh Se non vincevamo oggi Erano già lì pronti a scrivere Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Adesso ci aspetterà martedì la Champions League, la prima giornata a casa nostra contro il Liverpool e poi domenica prossima c'è il derby contro l'Inter. Queste due partite sono due ottime prove da testare e da vedere se il Milan si è sbloccato mentalmente, se si è sbloccato dopo l'avvio che ha avuto in casa col Torino, in trasferta col Parma, in trasferta con la Lazio. Bisogna vedere se continuiamo da questa vittoria che abbiamo avuto stasera col Venezia. Sono tanti aspetti positivi, lì dietro c'è ancora a migliorare, Emerson Royal, mannaggia te Emerson, riprenditi. Non ha giocato male, però deve ancora migliorare, entra ancora forse in condizione fisica, ha alcune sbavature, poi ancora alcune sbavature lì in mezzo della difesa. C'è ancora, c'è tanto da lavorare, c'è tanto da lavorare per il mister. Però va bene così ragazzi, 4-0. Gol di Fofanà, che sembrava che aveva segnato Gabbia sul corner, invece la Lega l'ha dato Fofanà e poi ci hanno fatto vedere mille replay, si conferma che la tocca Fofanà e poi Joren ce la butta di nuovo dentro, dopo che si ha subito dopo un minuto e trenta secondi, gol di Theor Nines, che secondo me era un cross, ma è diventato poi alla fine un tiro che passa sotto le gambe. Il 3-0 su un rigore conquistato da Temi Ebram, su un tiro di Renders con ottimo inserimento, Temi Ebram molto bene, rigore conquistato e pure gol segnato. Molto bene i nuovi acquisti che sono arrivati da poco, sto parlando di Temi Ebram. Io spero che continui così, molto bene Ebram, è piaciuto, sta entrando dentro l'organismo nel Milan, nel sistema tattico di Fonseca. Ragazzi, siamo felici, abbiamo visto una bella partita e ci siamo divertiti. Speriamo che si va avanti così e preghiamo, preghiamo le prossime partite, Liverpool e il derby. Comunque sempre forza mia, mettete mi piace e commentate. Vamos, 4-0, 4-0.